Radio Radicale, siamo con l'On. Alberto Bagnai della Lega per commentare il voto delle legislative francesi. Allora, un voto che era molto importante e che in qualche modo Macron ha superato con un'alleanza d'esistenza con il nuovo fronte popolare che non è un vero partito ma è un gruppo, un'alleanza di varie sigle che si sono messe insieme per impedire al Rassemblement Nazionale di vincere. Il Rassemblement Nazionale però è il primo gruppo parlamentare, questa è la grande novità di questo voto, dopo le legislative francesi. In queste ore Macron ha deciso di lasciare Atal a Palazzo Matignon e tutti sono sorpresi, allora non è cambiato niente. Grazie della domanda su questo esito che non era inatteso. Io sono indubitabilmente un esponente politico e quindi ovviamente dovrò dare anche un commento politico. Però poi cercherò di tirare anche l'analisi in quello che era stato il mio campo, quello che poi mi ha portato ad assumere un ruolo politico, cioè quello del contesto economico e macroeconomico dell'economia francese, che secondo me spiega molto di quello che sta accadendo. Poi mi potrà essere detto che se sei un martello ogni cosa ti sembra un chiodo e se sei un macroeconomista riduci all'economico in qualsiasi processo, anche sociale, anche politico, e questo può essere riduttivo. Accetterò volentieri la critica. Nel frattempo una riflessione che dobbiamo fare, no, dobbiamo no, ma possiamo ancora, grazie a Dio, in democrazia fare, a esito di queste elezioni, dal risultato, ripeto, non sorprendentissimo, visto che ci si aspettava che questo patto di desistenza funzionasse, ma anche le elezioni inglesi è una riflessione critica di attenzione e di approfondimento sul rapporto fra determinati sistemi elettorali e la rappresentatività, diciamo, democratica intesa come, come dire, percentuale di elettori che sostengono una certa tesi. Abbiamo visto anche con interesse su giornali, a loro modo, diciamo, autorevoli o di riferimento come il Manifesto, una serie di riflessioni che tendono a screditare il principio del suffragio universale, e queste già erano iniziate nel 2016, con le tre sconfitte patite dal, diciamo, chiamiamolo così, dal globalismo, insomma, in Inghilterra, negli Stati Uniti, e in Italia, insomma, nel loro piccolo. Mi riferisco ovviamente alla Brexit, alle elezioni di Trump, al referendum di Renzi, che comunque lo mettiamo nel suo piccolo, si parvalisce, in quota globalismo. Già lì era iniziato il processo di delegittimazione degli elettori, che diventa sempre più, come direbbero quelli bravi, vocal, cioè esplicito, tanto più quanto questo può essere anche letto in una chiave difensiva, cioè vale ad evitare riflessioni sul fatto che certi sistemi elettorali sostanzialmente conducono a non riflettere l'intendimento della maggioranza degli elettori, e siccome ad alcuni fa ovviamente piacere che questo sia così, nel dubbio si delegittimano direttamente gli elettori, così se quello che succede non gli somiglia, tutto va bene. Allora, lei che riflessione fa su questo voto del doppio turno francese, dove abbiamo visto che quasi lo stesso numero di elettori è andato a votare al secondo turno rispetto al primo turno? E poi cosa pensa di questa santa alleanza che poi alla fine ha permesso ad Attal di restare al suo posto? Allora, noi dobbiamo, che cosa siamo autorizzati a pensare a questo punto? Beh, io non devo autorizzare nessuno, non sono di sinistra, quindi non sono per la polizia del pensiero. No, guardi, allora, qui le riflessioni sono tante, se me ne perdo qualcuna lei mi aiuterà. Allora, innanzitutto per la Francia si apre un periodo di difficile governabilità, questo mi sembra evidente. Anche di ordine pubblico? Beh, potrebbe verificarsi anche questo. Allora, diciamo così, a questo punto utilizziamo l'approccio macroeconomico. La situazione della Francia è una situazione di competitività estremamente scarsa che determina un'accumulazione persistente di debito estero e quindi richiederebbe, se vi fosse una valuta nazionale, automaticamente determinerebbe una svalutazione di questa valuta e che invece, non essendovi una valuta nazionale, determina, ai sensi di quello che abbiamo visto accadere anche nel nostro Paese, la necessità di riforme, cioè di quel taglio competitivo dei salari di cui parla Draghi nel suo famoso discorso di tre mesi fa alla U. Abbiamo visto che il governo francese, in particolare Attal, aveva già imboccato un pezzettino di quella strada, per esempio con un intervento sull'età pensionistica molto blando rispetto a quello fatto da noi con la legge Fornero. Ma che ha provocato il triplo delle proteste. Appunto, considerando che quindi, come dice una nota canzone che si riferisce ai francesi che si incazzano, sono parole di un poeta, non mie, insomma, ma evidentemente mette in risalto una caratteristica dello spirito bellicoso e irriducibile dei nostri amici galli. E sommiamo a questo il fatto che in Francia ci sono anche molti non francesi, ci sono delle barlieue dove vivono minoranze cospicue e in alcuni casi maggioranze islamiche con una serie di, diciamo, non completamente integrate. Ecco, l'idea che si possa andare a tagliare sulla spesa sociale in un contesto di questo tipo ovviamente è così, utopistica. Ovviamente si scatenerebbero e si scateneranno delle reazioni se si intraprenderà quella strada. Quindi fondamentalmente la valutazione che facevamo ex ante era il pacchetto riforme spread attacco dei mercati e problemi di ordine pubblico se lo becca il Rassemblement Nazionale o se lo beccano gli altri? E la sintesi mi sembra sia che in qualche modo se lo potrebbero beccare gli altri. Il fatto che Attal sia rimasto lì sicuramente non fa piacere a quelli che ritengono di essere i veri vincitori delle elezioni, cioè il blocco della sinistra, questa congerie, diciamo, di sigle che ha una debolezza, una fragilità che lei ha messo in evidenza nella domanda quindi io mi limito a sottolinearla, sono tenute insieme esclusivamente dal dato negativo di dover contrastare il fascismo nel 2024. Ora, per me quello che la Francia sta vivendo potrebbe essere molto assimilabile al momento che abbiamo vissuto noi nel 2011, quando in presenza di una nostra crisi di competitività di un nostro debito estero rilevante in rapporto al PIL il Paese venne commissariato dall'allora professore, oggi senatore Monti, con le conseguenze che sappiamo un PIL che non è ancora tornato al livello del 2007, eccetera, eccetera. Non so se fra vent'anni in Francia il PIL sarà a livello odierno credo di no, credo che lì accadrà qualcosa o si allenteranno le regole europee, magari mantenendole rigide per noi ma operazione complessa perché il governo italiano è autorevole e stabile quindi è difficile fare due pesi e due misure fino a questo punto e beh, oppure ci aspettano tempi molto interessanti. Allora, quindi lei ritiene che la Francia a questo punto non possa più schierarsi come ai tempi di Macron per le politiche europee dell'austerità o comunque dei sacrifici non potranno essere attuate le politiche per come le conoscevamo quando Macron era forte? Ma io ritengo che il momento che stiamo vivendo in realtà lo abbiamo già vissuto cioè c'è un'esultanza da parte dei commentatori progressisti nostrani di tipo calcistico sul fatto che all'estero ha vinto qualcuno dei loro così vagamente assimilabile a loro trascurando diversi dettagli per esempio che la sinistra francese comunque sui temi sociali è sempre stata impegnata mentre qui in Italia la sinistra ha tagliato, è stata impegnata a tagliare loro hanno impegnato a difendere quindi tutte queste analogie non ci sono ma il problema strutturale del quale parlavo dell'economia francese ha già frustrato le esultanze della sinistra dei noantri in una occasione preclara, famosissima vi ricordate quando tutto il problema era se avesse vinto Sarkozy o se avesse vinto Hollande alla fine vinse Hollande e Hollande non risolse nulla perché i conti dell'economia francese sono peggiorati l'unico risultato ottenuto da Hollande è stato quello di azzerare il suo partito, il partito socialista perché non è riuscito né a dare una risposta alle istanze del lavoro né a risanare e quindi a dare una risposta alle istanze delle cosiddette riforme europee in questa area di impotenza sostanziale si trovano in questo momento a tal o chiunque Macron alla fine voglia mettere al posto suo con un problema che risulta evidente che secondo me lo rialganciamo alla riflessione iniziale sulle conseguenze di certi sistemi elettorali ed è questo che se un sistema elettorale congegnato in modo tale per cui gli elettori per farsi sentire devono avere il 51% al primo turno il problema è solo un problema di tempo perché naturalmente il tipo di reazione delle persone che oggi sono convinte di aver sconfitto il fascismo e domani saranno ridotte in povertà secondo il fascismo che non c'è peraltro e domani saranno ridotte in povertà in povertà che c'è di cui abbiamo esempi perché abbiamo la Grecia che è l'esempio più preclaro ovviamente la Francia non è assimilabile alla Grecia neanche l'Italia è assimilabile alla Grecia ma l'Italia ripeto è a ferma al PIL del 2007 nonostante con noi, con questo governo la crescita sia ripartita insomma ci siamo capiti il punto è che questo sistema appunto convince gli elettori per difendersi a votare a destra il gioco di demonizzare posizioni conservatrici assimilandole ai toteleterismi del XX secolo al fascismo, al razzismo eccetera eccetera è un gioco che ha come dire campo facile su alcune menti semplici ma anche le menti semplici messe di fronte alla durezza del vivere poi riflettono e si chiedono come ricorderà il compagno Folagra e Fantozzi sono paradigmatici in questo senso secondo lei quindi adesso a questo punto che farà Macron continuerà la trattativa europea piazzando Breton nella Commissione Europea farà questo gioco prima di vedere come evolve la situazione politica ritiene questo un atto di arroganza e che alla fine probabilmente il rassemblement nazionale forse un po' verrà rafforzato da questa politica di tutti contro uno parto dalla fine sì diciamo l'ho già detto ovviamente il rassemblement nazionale verrà rafforzato torno a dire appunto che se soprattutto dove i sistemi elettorali abbiamo visto dove i sistemi elettorali col fatto del doppio turno prevedono che se tu non passi al primo alla fine poi passerai al primo dal testo abbiamo visto che le percentuali di Marine Le Pen al primo turno sono andate costantemente aumentando a mano a mano che i francesi si rendevano conto del fatto che il loro paese era in un vicolo cieco per effetto di una serie di cose che vanno dall'entrata nell'euro alle regole europee eccetera eccetera no quanto al resto all'atto di arroganza beh qui diciamo passando invece alle inefficienze secondo me politiche del progetto europeo la situazione è molto tormentata che aspetta i francesi e voglio dire che la guardo con profonda solidarietà umana con affetto sofferto per una nazione che ammiro per tante cose che è così profondamente europea che tanto ha data la cultura europea è però un po' il risultato del fatto che con l'entrata nel progetto europeo nella sua forma in particolare di unione i capi di stato sono fatalmente diventati garanti non dell'unità della nazione ma dell'unità dell'Europa e questo vale un pochino ovunque d'accordo senza entrare in dettaglio e senza dire specificamente dove vale e questo naturalmente falsa un pochino i dati del problema venendo al punto specifico sono assolutamente convinto ma è evidente d'altra parte appunto della fondatezza della sua domanda cioè sicuramente Macron ha adottato questa posizione molto conservativa perché vuole gestire lui in virtù del suo sentirsi garante dell'unità europea la scelta di un commissario che rifletta questo orientamento del resto aveva annunciato che avrebbe gestito lui questa designazione quando anche ci fosse stata non so la maggioranza assoluta del rassemblement nazionale visto che invece il rassemblement nazionale in virtù di questo patto di desistenza è sceso nella graduatoria è ovvio che lui vorrà fare così la Francia ha un altro primo ministro che è quello che sta a Francoforte cioè il governatore della banca centrale europea che all'Italia insomma ha fatto parecchi danni noi non abbiamo mai visto un governatore come questo che con la politica degli annunci manda manda in crisi interi sistemi economici dicendo io i tassi li abbasso li aumento prima di prendere una decisione allora potrà avere un margine di manovra in questa fase la governatrice della banca centrale europea ma allora intanto faccio una riflessione di carattere più generale che riguarda il modo in cui oggi si fa politica monetaria basandosi appunto sugli annunci che dovrebbero in qualche modo come si dice ancorare guidare le aspettative c'è una letteratura scientifica molto raffinata molto matematizzata su tutto questo io mi limito a osservare che il tasso di inflazione non solo nei singoli paesi ma nell'eurozona al 2% non ci sta mai quindi voglio dire evidentemente tutte queste queste che vengono presentate come raffinate strategie di guida delle aspettative e che in realtà sono un pochino un tirare al piattello o un come dire condizionare i mercati in un senso favorevole a interessi politici ben precisi non riescono ad essere particolarmente efficaci apro e chiudo una parentesi visto che ci troviamo anche nell'ufficio del Presidente della Commissione Enti Gestori per dire che a me fa molto ridere che i bilanci tecnici delle casse di previdenza vengano compilati su un orizzonte di 50 anni prevedendo una cosa che non è mai successa cioè l'inflazione al 2% quindi come dire certe volte il delirio ideologico ha anche delle conseguenze pratiche tant'è che appunto alcuni enti stanno provvedendo anche a realizzare dei bilanci tecnici con parametri più realistici perché capiscono che come dire ma indubbiamente quello che sta succedendo in Francia determina una ulteriore rafforzata esposizione politica del ruolo della signora Lagarde ormai è chiaro che il concetto di indipendenza della banca centrale indipendenza si suppone dal potere esecutivo non è nient'altro che una forma elegante per scaricarsi dalla responsabilità delle politiche che in realtà si intendono condurre oggettivamente perché lo ha detto la stessa signora Lagarde l'unico modo che la banca centrale ha per controllare l'inflazione è dosare il grado di recessione del sistema economico cioè agire attenzione non sull'offerta di moneta come sta scritto nei libri scadenti ma sulla domanda di beni e servizi quindi indurre una recessione in modo che con meno domanda meno soldi in tasca tradotto per chi ci ascolta ci sia meno pressione la legge della domanda e dell'offerta vale con meno domanda i prezzi scendono e questo ha reso questo ruolo così politico molto esposto ora bisogna vedere che cosa che cosa succederà e che decisioni verranno prese faccio un esempio un modo per tenere insieme ancora una volta i cocci diciamo dell'unione monetaria come già è stato con il presidente Draghi sarebbe quello di svalutare non potendo svalutare il franco svalutare l'euro quindi ingaggiarsi in un ulteriore in un secondo round di svalutazione competitiva dell'euro rispetto al dollaro dopo il primo round determinato appunto dal whatever it takes e che ha suscitato reazioni molto stizzite negli Stati Uniti secondo me anche determinanti per tutta una serie di sviluppi geopolitici che vediamo io non so se la signora Lagarde per esempio penserà a una cosa di quel tipo che vorrebbe dire ovviamente ritornare a tassi molto bassi eccetera eccetera apparentemente sembra di no però se vuole tirare il suo paese fuori dagli impicci quella potrebbe essere una strada e ancora una volta però il costo lo pagherebbero tutti gli altri perché il punto è che che sia troppo alto o che sia troppo basso un unico tasso di interesse ahimè non riesce a contemperare le esigenze di economie tanto diverse certo va bene noi vedremo quello che accadrà io intanto la ringrazio molto per queste riflessioni sul dopo voto di questo secondo turno delle legislative francesi che apre un fronte di riflessione molto ampio su come si comportano i governi nei confronti dell'Unione Europea e sulle scelte economiche che dovranno essere presi in un mosaico politico che diventa sempre più complesso come quello dell'Unione Europea grazie all'onorevole Bagnai della Lega grazie a voi grazie a voi